In una scuola media piena di bulli, insegnanti fuori di testa, e di fatti disgustosi, nel figli che sarei io e i miei due migliori amici cerchiamo di fare l'impossibile, scrivere una guida su come sopravvivere a scu... ...è la marea di parole che mi dice sempre bassa voce, quando siamo con amici mi esplode il toraggio e il mondo tace, siamo solo io e te perché meglio di noi non c'è, baby non ti vergognare, lasciati andare quando sei con me... Amore, dimmi un po' chi stai sentendo, sono due ore che stai online, ma tu non mi iscrivi mai, vuole tipo e metti like, se continui baby ti sa col wifi... Giulio, guardate l'eleganza, chi ti ha pettinato così? E' la signora che è di sopra? Ma cosa ti ha messo in testa? Il gel! E perché? Perché mi... perché mi... Chi siete voi? Donne! E cosa volete? Niente! Ma come niente? Lascia stare! Perché? Non ti preoccupare! Ma cosa? Tu non ci... Spalle alte, pancia dentro, mignolino, so col mento, gira la tua testa in qua e là... Ma pane... Ispirare, espirare, sorridi, annoisci, non mostrare... Ciao a tutti, lui è lui? E lei, Sofì! Cosa stai facendo? Un ballo brutto! Ok! Sono io quello che piange nel letto ma giuro che smetterò Ma poi ricordati che io non ci sarò Quando sentirai che ti manco io non ci sarò Quando vorrai qualcuno al tuo fianco non ci sarò Io non ci sarò Dato che tu hanno sorridi Lo so che alla fine non mi esiste E ricordati che la gente competitiva Eh, a vita mia! Ahahahah 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 Ma come siamo carine! Quanti anni hai? Sei e mezzo Che carina è! In mezzo pure! Santi bionda, io lo specifico il mezzo Perché non so sei e non so manco sette Guardate l'eleganza Chi ti ha pettinato così? E' la signora che è di sopra Ma cosa ti ha messo in testa? Il gel E perché? Perché Una piccola premessa Prima di iniziare Ogni storia Ha due versioni E questa è la mia versione Quella vera Ciao Non devi farlo se non vuoi Non so che stai dicendo Oghi Dico solo che non devi fingere Oghi! Va bene scusa Perché ti siedi qui? Voglio amici carini per una volta Anch'io Lui Eh, volevo farti vedere Un nuovo esperimento che ho fatto Se tu prendi le dita E le metti così E tu guardi Perché stai guardando Lì la mossa! Mi vuoi bene? Ma sei pazza? No E' un musical Ciao Non devi farlo se non vuoi Non so che stai dicendo Oghi Dico solo che non devi fingere Oghi! Va bene scusa Perché ti siedi qui? Voglio amici carini per una volta Anch'io Ragazzi io e lui stiamo raggiungendo 2 milioni su youtube Qui c'è il contatore Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale Per entrare a far parte anche voi Del team trote Yes